L'aumento del costo della vita registrato nell'ultimo anno sta mettendo a dura prova le finanze delle famiglie italiane e quanto emerge dall'osservatorio Sguardi Familiari di Nomisma, secondo cui il 13% delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente a far fronte alle necessità primarie, vale a dire alle spese irrinunciabili come i generi alimentari, l'affitto, il mutuo o le bollette. A questo gruppo di famiglie, definite compromesse dalla ricerca, si aggiunge un altro contingente numeroso, il 43% dei nuclei intervistati che valuta la propria condizione reddituale appena sufficiente a far fronte a queste spese. Una sorta di equilibrio precario che potrebbe essere messo a rischio da un evento imprevisto anche di modesta portata per il 22% delle famiglie totali, percentuale che sale al 30% tra le persone sole e non anziane, al 31% per i genitori soli con figli e al 41% per le famiglie in affitto. Dall'indagine emerge anche che, a parte la famiglia di origine, i servizi sociali sono la principale rete di supporto dei nuclei in difficoltà. Oltre alle sovvenzioni economiche, i servizi più richiesti sono quelli legati all'assistenza domiciliare, sia quella esclusivamente sociale, sia quella integrata con i servizi sanitari.